Edilizia, sviluppo del territorio e futuro del sindacato. Sono stati questi i temi al centro del VI Congresso Territoriale Filca CISL. Lo Stato di Salute delle Edilizie a Bari e in provincia, il contratto edile, lo sviluppo del territorio, la riorganizzazione del sistema bilaterale e l'azione sindacale sono alcuni dei temi affrontati nel corso dell'incontro dal segretario Antonio Delle Noci, riconfermato tra l'altro alla guida della segreteria con Luigi Sideri e Gianmarco Passatore. I dati quest'anno in edilizia sono leggermente in crescita nella nostra provincia. Abbiamo registrato circa un 14% di aumento della massa salari, circa 16.000 associati in più al settore edile e il numero delle imprese rimane sostanzialmente stabile, però è un numero che ci fa ben sperare. Sono 3.400 imprese ad oggi registrate in caserile. Noi come organizzazione non possiamo lamentarci, siamo sempre l'organizzazione di riferimento, siamo la prima organizzazione sul territorio e quest'anno abbiamo chiuso il nostro tesseramento con circa 6.200 iscritti. Segretario, le vertenze o la vertenza più difficile? Beh, sicuramente la vertenza più difficile rimane Natuzzi, penso che tutti la conoscono. È una vertenza molto complessa. È ancora aperta come vertenza perché a maggio scade il secondo anno di solidarietà e quindi bisognerà lavorare per questi 1918 lavoratori che ovviamente si aspettano di concretizzare il loro futuro, di vedere bene il loro futuro. Un successo su tutti è stato l'accordo sulle pensioni. Il riconoscimento del settore edile tra i lavori gravosi è un risultato storico che noi come settore edile aspettavamo da anni, così come lo aspettavano centinaia di migliaia di lavoratori edili. Ai lavori sono intervenuti i segretari generali della CISR Bari Giuseppe Boccuzzi e della filca nazionale Franco Turri. Il contratto nazionale sta entrando nel vivo della contrattazione. Abbiamo degli incontri programmati per i prossimi giorni, sia con gli industriali che con la cooperazione e il 20 del mese di marzo avremo l'incontro con gli artigiani. Noi vogliamo fare un tavolo unico con tutte le nostre controparti. Purtroppo siamo stati costretti a farne due, ma vedremo di riunirlo in corso d'opera. Quindi stiamo entrando nel vivo della trattativa. Io credo che nei prossimi mesi potremo avere delle novità interessanti. Con il segretario Dallinoci abbiamo parlato di sicurezza sul lavoro. Sembra un problema che non trova risoluzione? Non trovo risoluzione perché abbiamo un mondo delle imprese che è una giungla. Per risolvere il problema della sicurezza bisognerebbe qualificare il mondo delle imprese. Quindi stabilire che per poter esercitare un'attività edile sia necessaria una sorta di patente, di abilitazione per poter fare l'imprenditore edile, così come per guidare serve la patente. Poi magari ci mettiamo anche dei punti in modo che la si possa sospendere o revocare e così qualificheremo il settore. Il problema degli infortuni oggi è perché abbiamo un subappalto selvaggio, imprese che non sono all'altezza e poi abbiamo la presenza di lavoratori anziani nei cantieri, tant'è che la maggior parte degli infortuni avviene o nei lavoratori giovani oppure per i lavoratori anziani. Quindi qualificare il settore è importante, come dicevo prima, perché oggi se io faccio il pizzaiolo domani mattina vado in camera di commercio posso aprire un'impresa edile. Credo che sia l'unica attività italiana per cui la burocrazia è di fatto inesistente.